Ci veni trovati, un soldo da Robert Matri, 1999 Delphi, quindicesima parte del campionato compresto, abbiamo perso contro lo Sheffield West e adesso siamo 7, abbiamo perso con lo Sheffield West 3-0, non ce l'aspettavamo, l'abbiamo perso, ora 14 dicembre adesso, il minore di Ficar siamo passati finalmente, Adesso giochiamo contro, giochiamo contro, aspettate, non lo so, non lo so, giochiamo contro Leighton Orient, ai ai ai, questa che è una brutta partita, è una brutta partita, Siamo in un power league 1, noi vogliamo sempre passi, c'è più ci, dai, dai, dai ragazzi, no, eravamo in vantaggio, si, con calma, eravamo in vantaggio, dai, 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 No, no, abbiamo pareggiato all'ultimo, beh, peccato, peccato, siamo settimi di due punti in meno, e adesso, adesso abbiamo l'ottava, quella di torno a noi praticamente, che è il Wicombo, All'altro abbiamo vinto, mi sembra, c'è, boh, ho ben pareggiato, non lo so, comunque oggi dobbiamo tornare a vincere assolutamente se vogliamo i playoff, se no, niente, Nardiano, mi sembra che è italiano, da Wicombo, No, Roberto, dai Perry, bravo Perry, bravo Perry! Sì, Procter! Sì, nelle puntate precedenti mi sbagliava perché dicevo Proector, È finito, mi ha vinto! Sì, l'abbiamo vinta, abbiamo vinto, abbiamo vinto il Wicombo, Perry e Procter! No, due mesi, proprio, Rottura del legamento, crociato, Collumino, no, no, Ecco, abbiamo fuori cinque mesi, McLean, Adesso due mesi, vabbè, Siamo messi proprio, sono sbagliati, Vi devo dire che nelle puntate precedenti, se ci avete fatto caso, Procter, io lo chiamavo Prector, Mi sono sbagliato, comunque, Procter, prector, sei per questa persona, Forse, Comunque, abbiamo già recuperato un po' di punti, Non ho visto dove siamo, Oggi, Oh, McLean è ristabilito, Non ci credo, Grande, grande, Siamo sesti, Siamo sesti, Cioè, sesti, Siamo sesti, Zona player, Zona player, Ma dobbiamo mantenercelo, Vole giochiamo contro la ventesima, Giochiamo contro la ventesima, Lo Yovil, Lo Yovil, Dai ragazzi, McLean si è venuto a troppeggiare, Poi la fine è riscaldato qua lì, Dai ragazzi, Vinciamo la staccava di partita con lo Yovil, Procter, Proctor, Addirittura non è Procter, È Proctor, Mi sono sbagliato ancora, Comunque lui, Ha fatto gol, Espulso Yovil, Sì, 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 Tre punti fondamentali con lo Yovil, Tre punti fondamentali, E siamo sempre sesti a fare il punto con il Brentford, Ma va bene, Va bene così, Va bene così, Ora proviamo a staccarci, McLean vuoi giocare? Dato che 31 dicembre, Dopo poi Natale, Poi c'è anche il calcio mercato inizia, È giusto che tu giochi, È giusto che giochi McLean, Nel medico sei tornato, Mi mancavi, Ok, E con questo è finita l'ennesima parte, La quindicesima parte, Con il campionato complesso, Un saluto a Robert Wattel, Il mio 189 del Pi, Grazie, Commentate e scrivete,